Non esistono famiglie di serie A e famiglie di serie B, potete sedervi, eh? Cioè, non è come in chiesa, cioè... State pure seduti! No, dicevo, non esistono famiglie di serie A e di serie B come fosse un campionato di calcio. Soprattutto, quale sarebbe la famiglia di serie A? Quella dove tutti vanno sempre d'accordo? Non esiste, è una bufala. Una famiglia dove vanno tutti sempre d'accordo, non si litiga, vuol dire che ciascuno si fa i cazzi suoi, è così. Poi di solito quelli che strillano che la famiglia è solo quella tradizionale, poi ciupano in giro come ricci, mantengono pattuglie acrobatiche di escort, si tirano piste che Pablo Escobar all'aeroporto di Bogotà manco se ne vedeva, poi vanno in Parlamento e votano contro le unioni civili. Le famiglie non sono un'equazione algebrica, è neanche una formula matematica, ma guarda anche nei fumetti ci sono delle famiglie meravigliose. Zio Paperino che vive con i tre nipoti, qui qua qua, nonna Papera che non è mamma di nessuno ma è nonna sempre di tutti. Il Kung Fu Panda che ha due genitori, uno adottivo che è un papero e quello biologico che è un panda. Guarda anche Batman e Robin, sono gay e chi se ne frega. L'importante è che se uno è in pericolo lancia il batte segnale e l'altro arriva, senza parlare di Geppetto che è vedovo e c'è un figlio di legno. C'è un solo requisito per fare famiglia, uno solo, semplice, l'amore, il volersi bene, darsi una mano ed esserci tutti i giorni. È famiglia quella che accoglie, che si apre, che fa spazio nella casa e nel cuore. In questi ultimi anni le famiglie che adottano bambini sono diminuite del 34%. Eppure l'adozione è un'esperienza difficile ma bellissima. E perché si adotta sempre meno? Perché è una corsa ad ostacoli. Primo ci vogliono un sacco di soldi. Minimo 20.000 euro per un'adozione internazionale. Quindi può essere generoso solo chi ha i soldi. E poi ci vuole un sacco di tempo. 18 mesi per avere l'idoneità e 25 mesi per portare a termine l'adozione. Che fa tre anni e mezzo minimo. Il tempo che la sonda Voyager ci ha messo per raggiungere Saturno. Ma in tre anni e mezzo, ma sai quante cose possono capitare? Ma sai Belen in tre anni e mezzo quanti fidanzati può aver cambiato? E intanto, mentre il tempo passa, il bambino o la bambina resta in comunità o in arfanatrofio o in balia di chissà chi. C'è un detto piemontese che a me piace tantissimo perché è semplice e concreto e dice Piuttosto che niente, alemei pitost. Che vuol dire piuttosto che niente e meglio piuttosto. Allora, io sono una mamma affidataria da 11 anni. E se dovessi dire una dote che tocca avere nell'affido è l'elasticità, la capacità di adattamento, la flessibilità, la resilienza. Hai presente il navigatore quando sbagli strada che ti dice ricalcolo percorso? Ecco, nell'affido è uguale. Ogni tanto devi ricalcolare il percorso perché la strada è improvvisamente sbarrata. C'è una frana che ingombra il cammino. Bisogna andare piano piano senza pestare sull'acceleratore. Il terreno è maledettamente strucciolevole e se freni di colpo sei fottuto. Ma vuoi mettere la bellezza del viaggio? Ho qui una lettera per te, bambino o bambina che sei stato adottato. L'ho scritta a nome di tutte le mamme e di tutti i papà adottivi o affidatari. Si intitola Lettera ad un bambino rinato e dice così. Caro te, che sei femmina o sei maschio, poco importa. Te, che non sei nato dalla mia pancia, ma dal mio cuore. Te che hai una faccia diversa dalla mia, anche se tutti dicono che ci somigliamo. Te che la vita è bastarda perché ti ha fatto nascere in un posto e rinascere in un altro e non hai potuto scegliere nessuna delle due volte. Te che una mamma ce l'avevi, ma poi ne è arrivata un'altra e adesso ne hai due ed è un gran casino. Te che sei da maneggiare con cura, come c'è scritto sulle robe fragili. Che sei fatto di spine e ogni tanto pungi e ti dispiace. Che a volte non ci stai dentro. Che vuoi scappare, ma non sai da cosa. Te che per paura di essere lasciato lasci. Che non ti fidi mai. Te che dimmi che mi vuoi bene, ma dimmelo venti volte di seguito. Te che posso venire nel letto con te e dimmi che non mi lasci anche tu. Te che è vero che sei un figlio e una figlia diversa. Perché i figli nati solo dal cuore, sono più figli ancora degli altri. Sei un figlio al quadrato, un figlio alla terza, la quarta, la quinta potenza. Perché sei stato l'attesa, il mistero, la pazienza, la tenacia, il senso definitivo di tutto. Se ci fosse una misura dell'amore, ti direi che il mio amore per te non sta dentro una piscina olimpionica. Se lo misurassi in chilometri, sarebbe lungo come la Salerno-Reggio Calabria, la Transiberiana e la Curva dell'Arcobaleno. Se fosse un mare, tutti gli oceani messi insieme. E se fosse cielo, una galassia intera. Un miliardo di stelle sarebbero tutte per te. E se non sei convinto, voglio ripetertelo ancora. Sei mio figlio. Sei mia figlia. In ogni istante, di ogni minuto, di ogni ora della mia vita. E non potrei mai, di tutti il mondo dei mai, fare a meno di te. Per questo ti do tutti i baci che ho.